L'uomo si impadronisce di tutto, si crede Dio, si crede il Re. E le guerre, le guerre che continuano, non precisamente a seminare grano di vita, ma è l'industria della distruzione, è un sistema anche di vita, che quando le cose non si possono sistemare si scartano, si scartano i bambini, si scartano gli anziani, si scartano i giovani, senza lavoro. Questa devastazione ha fatto questa cultura dello scarto, si scartano i popoli. Nella cornice del cimitero del Verano, nella solennità di tutti i Santi, Papa Francesco ha lanciato un monito all'uomo, mettendo a fuoco tutti gli scenari di distruzione del mondo contemporaneo. L'essere umano, infatti, nel suo sogno utopico di essere come Dio, sta distruggendo il creato, affamando i popoli, devastando le culture e uccidendo la speranza. Le immagini del passato sono impresse nelle foto che il Pontefice ha visto prima della celebrazione e che ritraggono il bombardamento di Roma del 1943, ma la tribolazione alla quale Papa Bergoglio fa riferimento è contemporanea, drammaticamente attuale e parla di gente in fuga dalle proprie case, di bambini e disperati che nel freddo dell'inverno chiedono pane, medicine, salvezza. Dinanzi a tutto questo orrore e ai frutti dell'egoismo dell'uomo, Papa Francesco ancora una volta ha indicato l'amore di Dio che mai abbandona il suo popolo. Il Signore ci aiuti e ci dia la grazia di questa speranza, ha concluso, ma anche la grazia del coraggio di uscire da tutto quello che è distruzione, devastazione, relativismo di vita, esclusione degli altri, esclusione dei valori ed esclusione della pace. Grazie a tutti.